AWC, Big Pilot Top Gun, il cronografo da aviatore per eccellenza. Se siete appassionati di orologi da pilota, sicuramente avrete sentito parlare della collezione Top Gun di AWC, una linea di segnatempo ad alte prestazioni, realizzati con materiali innovativi e resistenti, ispirati alla leggendaria scuola di volo militare della Stati Uniti Navy. La storia del Big Pilot Top Gun inizia con la storia degli orologi da pilota di AWC, una tradizione che risale al 1936, quando la Maison Svizzera lanciò il suo primo Special Watch for Pilots, destinato principalmente all'uso dell'aviazione civile. Questo orologio aveva un quadrante nero con grandi numeri arabi luminosi e una corona a cipolla, facile da manovrare anche con i guanti. Negli anni successivi, AWC iniziò a produrre orologi da pilota anche per l'esercito britannico. Nel 2007, AWC divenne il licenziatario ufficiale della Stati Uniti Navy e lanciò la collezione Top Gun, dedicata alla scuola di volo militare più famosa al mondo. Il nome Top Gun deriva dal soprannome dato alla Navy Fighter Weapons School, istituita nel 1969 presso la base aerea navale di Miramar, in California, con il compito di formare gli istruttori di volo che a loro volta avrebbero addestrato tutta la flotta della marina militare statunitense. La scuola divenne celebre grazie al film omonimo del 1986, diretto da Tony Scott e interpretato da Tom Cruise. La collezione Top Gun di AWC comprendeva diversi modelli di orologi da pilota, tra cui il Big Pilot Top Gun, che si distingueva per la cassa in ceramica nera, un materiale estremamente duro, leggero e resistente alla corrosione e ai graffi. Il Big Pilot Top Gun aveva le stesse dimensioni e le stesse funzioni del Big Pilot tradizionale, ma con un quadrante più sportivo e un cinturino in tessuto nero. Questa collezione è ulteriormente impreziosita dal modello Cronograph, con aggiunta di funzione Flyback. I contatori di questa complicazione sono due, quello posizionato a ore e sei indica i secondi, mentre quello a ore dodici integra ore e minuti. La finestrella con la data è collocata a ore tre. Un'altra splendida versione del Big Pilot Top Gun è dotata di calendario perpetuo con indicazione di data, giorno della settimana, mese, anno a quattro cifre, indicazione perpetua delle fasi lunari per gli emisferi nord e sud e indicazione della riserva di carica. Sette giorni. La cassa e il cinturino di questa particolare edizione del Top Gun sono realizzati in ceratanium, nero o bianco. Lewis Hamilton, il campione di Formula 1 e ambasciatore del marchio AWC, indossa spesso un AWC Big Pilot Top Gun.